Un Palermo ancora senza pilastri, dal direttore sportivo all'allenatore passando per altre figure importanti, ma pur sempre un Palermo che, dal suo interno, esprime fiducia nonostante tutto. Sensazioni positive vengono trasmesse in merito al closing, sebbene i tempi continuino ad allungarsi. Le parti devono ancora limare dei non tanto ben precisati dettagli per poter firmare il passaggio di proprietà delle quote del club, la cui valutazione è ancora oggetto di dibattito. Per la trattativa, comunque, sono già state concesse le garanzie di copertura da parte dell'Istituto di Credito Londinese che sta facendo da advisor. Baccaglini starebbe puntando ad arrivare alla data del 20 giugno dopo i numerevoli rinvii. La fiducia e le sensazioni positive filtrano da tanto tempo, ma sono passati ormai tre mesi nella stanza dei bottoni senza riuscire a chiudere l'affare e sembra che i tempi siano destinati a dilatarsi ancora. Che quella del 20 giugno possa essere una data da dentro o fuori, sottolinea il giornale di Sicilia, resta da capire. Baccaglini e Zamparini sono di fatto ancora in fase di trattativa per perfezionare un'operazione attesa solamente dall'ultimo atto, quello del closing. Riuscire a giungere alla tappa conclusiva prima della fine di giugno, in ogni caso, è l'obiettivo principale di entrambi. Questo perché il passaggio di proprietà potrebbe essere ratificato prima della chiusura del bilancio, ossia prima del 30 giugno, facendola così figurare come un'operazione relativa all'esercizio in corso.